Al termine di questa giornata io e il sindaco Egliano Brizio abbiamo trovato un posto dove sederci all'ombra in una zona meravigliosa, sindaco, veramente è uno spettacolo questo territorio. Sì, qua a Villattala dove finisce la passeggiata è un posto fantastico come vedi, siamo al fresco, c'è la sua chiesetta, distribuiscono il dolce, la gente può riposarsi tranquillamente. Anche quest'anno un grande risultato perché c'erano più di 250 persone, quindi direi che è veramente un successo questa passeggiata. Sì, è un successo, 250 persone è un bel risultato perché almeno siamo riusciti a contentare tutti, sono tutti contenti, adesso stanno giungendo qua a Villattala a mangiare il dolce e io sono particolarmente felice perché fra l'altro il tempo ci ha dato anche una grossa mano, fa un po' caldo comunque poi quando si arriva qua c'è un po' di arieta, c'è fresco, tutti si riprendono bene. E quindi appuntamento all'anno prossimo, immancabile? Sicuramente, l'appuntamento sarà l'anno prossimo, l'ultima domenica di maggio, se non ci sono scadenze elettorali come tutti gli anni, purtroppo a maggio siamo sempre appesi o per il referendum o per altre scadenze elettorali, ma il prossimo appuntamento sicuramente sarà alla fine di ottobre, l'ultima domenica per la Castagnata. E quindi insomma la Valprino continua a approfittare per offrire il suo territorio e i suoi prodotti alla gente? Sicuramente, la Valprino è l'unica cosa che può offrire, è il suo territorio, i suoi prodotti, le sue belle passeggiate e delle giornate tranquille, serene e trascorrere in famiglia. Grazie Sindaco, arrivederci alla prossima allora. Arrivederci a ottobre. Grazie.